un saluto a tutti da snow kills e ben ritrovati in questo video dove vi mostrerò semplicemente come prendere la skin del dottore qui anti covid allora usciamo dalla wall io l'ho scoperto per sbaglio perché sono sempre chiuso dentro la wall della gilda e quindi non mi capitava da parecchio di uscire qui fuori ce ne andiamo qui sulla destra passiamo il ponte e parliamo con questo tizio qui e vi regalerà i quattro pezzi di questa skin che sono la testa il corpo l'accessorio e la mascotte non c'è arma e non c'è scudo purtroppo e quindi niente soltanto questo se avete richiesto di altri video di beat heroes fatelo sapere nei commenti e ci becchiamo alla prossima ciao